Confartigenato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 28 06 98. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee, telefono 079 27 1280. Nel venerdì nero della sanità sarda, che ha visto un record assoluto di contagi, oltre 600 i casi in tutta l'isola e di questi 175 nella sola provincia sassarese, arrivano le rassicurazioni del presidente della giunta Solinas, secondo le quali la situazione coronavirus è sotto controllo perché siamo ancora tra le poche regioni gialle. Notizie rassicuranti dunque per i sardi della regione, anche se l'assessore della sanità Mario Niedu ci informa che questa seconda ondata è peggiore della prima. Sono in arrivo nuovi posti letto, soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive, ma al Santissima Annunziata di Sassari la situazione sembrerebbe tutt'altro che sotto controllo. Nel triage del pronto soccorso i pazienti covid in attesa di ricovero sono mediamente una settantina. I reparti destinati a coronavirus nell'ala sud dell'ospedale sassarese sono aumentati, oltre al sesto sono covid anche il quinto, il quarto e il terzo. Restano il primo e il secondo dedicati a medicina uomini e medicina donne, ma presto saranno riconvertiti anche questi. Intanto si lavora all'interno dei container dove saranno allestiti 14 posti letto per terapia intensiva, ma per quanto celermente si proceda ci vorranno alcuni giorni. È stato coperto il ponticello che collega la zona sporca del pronto soccorso con i prefabbricati bianchi. Spostata al San Camillo la tenda che era stata piazzata di fianco al tunnel delle ambulanze. Sarà utilizzata per effettuare i tamponi e in aiuto del personale sanitario delle aziende pubbliche arrivano i medici militari che sono già sbarcati nell'isola e che dal 17 novembre saranno a Sassri nel parcheggio di via Pirandello proprio per effettuare i tamponi. Ed è proprio il personale medico il vero problema dell'organizzazione sanitaria. Con un ordine di servizio dell'AU di qualche giorno fa, medici di altre discipline, rispetto alla pneumologia, malattia infettiva o terapia intensiva, vengono reclutati e dopo un breve corso online mandati in prima linea. Sono soprattutto i più giovani che anche se con una formazione in oculistica piuttosto che in ortopedia o in dermatologia si troveranno ad acudire pazienti che necessitano di ventilazione, intubazione e altri interventi specialistici. Entrata in vigore da ieri a Sassri la nuova ordinanza sindacale che avrà validità fino al 3 dicembre. La nuova disposizione comunale siglata dal primo cittadino in seguito al preoccupante aumentare dei casi da coronavirus impone nuove restrizioni ai comportamenti dei cittadini. Tra questi il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, aperti, in piazze, marciapiedi e scalinate oltre le quattro persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, anche se in possesso dei dispositivi di protezione. Una nuova regola che non tutti i giovani purtroppo ancora conoscono, anche se la maggior parte ha comunque concordato con la scelta dell'amministrazione comunale. Penso che siano delle misure giuste, anche se molto sovere. Poi è normale che in questo periodo di grande emergenza ogni sindaco preveda diverse misure sempre più restrittive, però tutto questo si fa per non peggiorare la situazione, dato che a Sassri ci sono stati già tanti contagi e tanti casi di positività. Sì, è un po' d'accordo che un po' no. Un po' no, nel senso che non so quanto possano essere efficaci queste misure. È un po' d'accordo invece perché comunque almeno ci sta provando. Altri invece vedo che comunque da altre parti non c'è questo stesso interesse. è tutto qua, anche visto l'aumento dei casi qua a Sassri e tutto. Sì, sono d'accordo con la nuova ordinanza del sindaco perché in questo periodo è molto difficile comunque riprendersi e quindi c'è bisogno da parte di tutti di un impegno comunque a rimanere più tempo possibile a casa. Bisogna comunque stare con le giuste attenzioni e incontrare comunque, incontrarsi in pochi perché c'è meno possibilità di contagiarsi. Guardi, riguardo a questi assemblamenti, hanno anche le loro ragioni alla fine perché comunque questo virus si diffonde, però il fatto è che qua ognuno ha le sue cose, si muore anche di fame, la gente deve uscire e questo è. Certo, sia giusto, anche tra amici comunque si può, non è che gli amici sono immuni da questo virus. Cioè ci sono molti casi a Sassari e in tutta la Sardegna, quindi c'è qualcosa di pericoloso comunque, quindi non lo so. Vabbè, cercheremo di non riunirci. Causa coronavirus, vietati tutti i tipi di festeggiamenti, una perdita economica non indifferente per tutti i commercianti, dall'abbigliamento, all'enogastronomico, ma perfino ad un settore particolare, quello degli addobbi. Finiti i palloncini, i piatti colorati, i decorazioni varie, tutto diventa meno gioioso, perfino per le nascite, i compleanni o le feste di laurea, che erano quelle diventate più vistose e chiassose di tutte. Le cerimonie e i momenti di festa, ridotte a quattro persone, tutte dello stesso nucleo familiare, non necessitano di grandi arredi. La conseguenza, un crollo economico anche per un settore ormai dimenticato, un mercato fermo da mesi e che desta forte preoccupazione per i titolari di questa attività, che saranno costrette a chiudere fino a che la pandemia non sarà finita. Ma c'è chi resiste. Abbiamo raccolto le varie interviste tra i commercianti cittadini. Noi, essendo un negozio, io sono un professionista di palloncino, che è un negozio unico a Sassa, ho cercato di rinventarmi nella vendita delle mascherine quando tutto era chiuso, inventando mascherine del genere, ma per non star fermo. Purtroppo noi siamo anche piccoli prenditori, che non abbiamo neanche sostegno da parte dello Stato, perché si parla tanto, ma non abbiamo sostegno da parte dello Stato. Per dicembre io la soluzione che ho trovato è quella di, ogni volta io devo sempre rinventarmi. Adesso per Natale la cosa che mi rimane da fare, pensando un po' a cosa potessi fare come servizio anche per la città, impacchetterò i regali in maniera originale. Sono tutti in crisi, anche le mamme hanno le difficoltà, comprano giusto l'indispensabile per contentare i figli, però è evidente che il lavoro è crollato abbastanza. Per evitare rischi di chiusure abbiamo creato un reparto dove abbiamo tutti gli alimentari, tipo minimarket, e di conseguenza abbiamo allargato un po' la gamma di prodotti. Il settore della pasticceria lo stiamo incrementando per sopperire alla mancanza del settore delle feste. Uno studio della Camera di Commercio di Sassari rivela che il sistema delle imprese del Nord Sardegna, malgrado la pandemia, ha registrato nel terzo trimestre 2020 un tasso di crescita superiore dello 0,36% rispetto alla media regionale e dello 0,39% rispetto a quella nazionale. Vi sono 45.876 imprese attive, il 32% del totale regionale. Nell'ultimo trimestre sono occorse 541 nuove iscrizioni e 315 cessazioni d'impresa, con un incremento dunque di 226 nuove aziende. Nel periodo tra gennaio e settembre 2020 è stata Olbia ad avere il maggiore incremento di attività, con più 138 aziende, mentre in percentuale la Maddalena ha raggiunto il 2,1%, Sassari lo 0,8% e Alghero lo 0,7%. Nell'ultimo trimestre analizzato i comparti dei servizi e del turismo si incrementano dell'1%, specialmente per quanto attiene le attività di ristorazione con e senza somministrazione, i bed and breakfast e il commercio al dettaglio sul web, ma anche il settore delle costruzioni è cresciuto di 23 unità. Sono segnali importanti, secondo Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio. Il momento è indubbiamente complicato, ma le nostre imprese stanno ottenendo comunque, sviluppando gli anticorpi contro un virus che ha attaccato le persone e al contempo il nostro sistema imprenditoriale. Complessivamente, nei primi nove mesi del 2020, i servizi hanno registrato un incremento del più e 8% e il turismo un più 1,7%, mentre il commercio evidenzia un meno 0,7% e l'industria un meno 0,1%. Se è vero che il cane è il miglior amico dell'uomo, in alcuni casi l'uomo diventa il peggior nemico del cane. Sempre più diffuso anche ai giorni nostri è il fenomeno dell'abbandono di gatti e cani, un tema che sta a cuore agli amanti degli animali, così come all'Associazione Zampetti Felici, attiva nel territorio ormai da un anno che insieme al suo presidente, Giorgia Spezziga, è riuscito a coinvolgere tante persone con l'obiettivo di battere questo spregevole fenomeno dell'abbandono e del randagismo. Ci occupiamo appunto di sistemare cani e gatti randaggi senza casa che si trovano abbandonati per il territorio. Erano una concolata di 9 cuccioli, sono stati tutti quanti adottati per fortuna, chi a Milano, chi a Genova, amore, praticamente noi per dare un'adozione facciamo compilare un questionario conoscitivo, delle domande standard, diciamo, dove tieni il cane in casa, se il cagnetto viene sterilizzato, e poi facciamo un preaffido per vedere dove andrà a vivere la cucciolina, vero? E lei andrà a Genova. L'istruttore cinofilo Roberta Maloccu da anni spiega la sua teoria per evitare l'abbandono e le seguenti conseguenze che questo fenomeno può causare. Un tema sensibile anche al nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che porterà nel parco della Casa Blanca gli amici a quattro zampe. Anche le amministrazioni del territorio, come quella di Castelsardo, tiene al tema, infatti sta provvedendo ad organizzare una giornata dedicata all'opposizione gratuita del microchip al fine di limitare questa attriziazione in tutela dei canidi. Obbligherei i cittadini alla microchipattura, perché, ripeto, oggi il randaggismo nasce proprio da questo, da cani di proprietà lasciati liberi di andare e riprodursi. E tra qualche giorno realizzerà anche il sogno della sua vita aprire un parco dedicato esclusivamente al miglior amico dell'uomo. L'obiettivo è di fare educazione cinofila nel mio paese, quindi portare i ragazzi, portare le signore, portare i bambini soprattutto e farli crescere con una mentalità che cos'è la cinofilia, che cos'è un cane, cioè il cane non è un giocattolo. Grande successo dell'opera di Sor Angelica di Giacomo Puccini, trasmessa in diretta streaming il 6 e 7 e 8 novembre scorsi dal Teatro Comunale di Sassari. L'opera inserita nella stagione lirica ha raggiunto tutto il mondo con 3.407 visualizzazioni, ha registrato accessi anche dagli Stati Uniti e da tutta Europa, dalla Spagna alla Svezia, dall'Irlanda alla Francia alla Germania. Il successo dell'iniziativa ha premato la decisione della direzione artistica che ha voluto fortemente mantenere le tre recite e proporle gratuitamente. Il pubblico ha potuto apprezzare non soltanto l'alta qualità dello spettacolo, ma anche la suggestiva testimonianza delle maestranze e dei tecnici che al termine dell'opera, nel silenzio assoluto, hanno occupato la platea, sottolineando così il difficile momento della cultura in Italia. Da aggiungere anche le visualizzazioni delle piattaforme social nelle rispettive pagine del lente concerti Facebook e YouTube, dove lo spettacolo sarà disponibile fino al prossimo 20 novembre, riuscendo ad incrementare in pochi giorni accessi fino a superare i 4.000 follower. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna mascherine chirurgiche in confezioni da 10 pezzi a 20 centesimi ciascuna e a 25 centesimi in confezioni singole. Mascherine filtranti facciali FFP2 in confezioni da 100 pezzi a 1,20 euro ciascuna e a 1,50 euro in confezioni singole. Mascherine lavabili a 30 centesimi ciascuna. Nel nostro punto vendita sono disponibili presidi di protezione individuale e tutti i prodotti per la sanificazione. Proteggiti dal coronavirus con Sidernet. Generali. Partner di vita. Pellet certificato in sacchi da 15 kg a 4,29 euro. Riscaldarsi costa meno e non fai fatica. Mezzogiorno di fuoco per la Dinamo domani al Pallaserra di Migni. Per il lunch match dell'ottava di regular season ecco la corazzata Brindisi reduce da sette vittorie consecutive tra campionato e coppe. Contro la vicecapolista il banco rischiere due pezzi da 90, Cruzdin e Treyer assenti da tempo causa quarantena. Ossigeno per una squadra costretta agli straordinari in Italia ed Europa e apparsa scarica nell'ultimo match perso a Trento. Per affrontare il team di coach Vitucci servono i bianco-blu a pieno regime. Brindisi è la più in forma del campionato, spiega l'assistant coach Geroso, che accenna alle contromosse. Dobbiamo cercare di muovere la palla il più possibile, non fermare il nostro flow e cercare di eseguire molto di più. Dall'altra parte i bianco-azzurri mostrano i muscoli dei lanciatissimi Harrison e Thompson, ma l'intero roster a girare a mille, compreso il giovanissimo Vescovi, autore di una prestazione maiuscola in Champions. In casa Dinamo, Gentile prova di prendere confidenza col canestro dopo il lungo infortunio, mentre non è ancora chiaro se domani sarà della partita anche Tony Katic, sostituto in extremis dell'infortunato Pusisa. Intanto il torneo soffre, come il resto del paese, dell'arrembaggio Covid. saltano quattro match per positività dei giocatori. Ogni turno ormai è una scommessa e i valori sportivi devono soccombere a quelli sanitari. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!